Un weekend all'insegna del sole e di temperature più miti. In particolare Rieti e provincia non dovrebbero essere interessate da rovesci piovosi, almeno fino al prossimo mercoledì. Leggero aumento delle massime, stazionari invece le minime. Ultimi colpi di coda per la perturbazione che sta interessando tutta la costa aderiatica, in particolare le Marche e l'Abruzzo, ma non dovrebbe travalicare gli appennini, semmai solo qualche sporadica nube al centro. Non è prevista neve ad alte quote e si consiglia di godersi l'ultima neve sulle piste del Terminillo.